Maestro cosa facciamo adesso? Ora suoneremo l'inno a San Foca Martire. Grazie. Abbiamo suonato le marce sinfoniche Dea e musica al Ceruti e adesso recupereremo pomeriggio. Va bene, buon ascolto. Sì, grazie. Come si chiama questo strumento? Corno. Chiama uno? Chiama uno? Chiama uno eh? È un bel giusto, è un bel giusto che è un bambino di San Foca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.